Devo dire che ci tenevo a fare una riunione un po' ufficiale, simbolica a Palazzo Chigi per suggellare questa tappa che è stata rilevante con l'accordo del 19 luglio di un lavoro che va avanti da un certo tempo che però dopo questa intesa entra in una fase attuativa di grandissimo impegno per tutti noi. Per questo credo che era utile anche un'occasione come questa per darne atto e per vedere anche i capitoli successivi. Non ci nascondiamo credo tra di noi la rilevanza di un progetto come questo per un Paese che spesso appare e spesso è riluttante a fare delle grandi operazioni nelle nostre aree metropolitane per una serie infinita di ragioni, adesso il Presidente De Luca ne ha sollevata una che ha avuto altre occasioni di sollevare e che ha la sua rilevanza. Sappiamo che ci sono un concorso di vari motivi storici, legislativi, burocratici che rendono spesso complicato in Italia fare grandi operazioni urbane. E sappiamo tuttavia che la qualità e la competitività delle nostre aree urbane si gioca da noi come nel resto del mondo anche attraverso grandi progetti. Questo è un progetto davvero strategico, questo di Bagnoli e quindi il fatto che ci si lavori avendo trovato un punto di intesa e avendo già avviato parecchi attività diciamo così preliminari credo che sia molto importante. È importante per quello che rappresenta Napoli che non ha bisogno di essere sottolineato, è importante per l'area, l'area è impressionante, le dimensioni di Bagnoli, quello che può riservare dal punto di vista di una rigenerazione, di un waterfront in una grande metropoli italiana. Abbiamo delle esperienze in altre metropoli italiane sviluppate in questi anni ma questa sarebbe certamente una delle più rilevanti. Il segno di questa grande operazione è un segno di recupero ambientale, anche questo credo che vada sottolineato per la salute dei cittadini, la qualità della salute dei cittadini a Napoli, ha un segno di rigenerazione urbana nel rispetto dei criteri urbanistici stabiliti dalla Regione, nel rispetto del patrimonio e delle realtà che vogliamo salvaguardare. Abbiamo visto che c'è un mix tra rigenerazione, cambiamenti e conservazione che credo vada sottolineato. Quindi un'operazione che è una sfida per tutti noi, certamente una priorità per il Governo, quindi anche lo sarà dal punto di vista delle risorse. La mia esperienza breve qui a Palazzo Chigi, una delle cose che mi ha detto con più chiarezza è che spesso la difficoltà, più che nel reperire le risorse per quanto riguarda i grandi progetti di investimento pubblico, consiste nello spenderle, quindi io credo che noi possiamo certamente confermare l'impegno del Governo a considerare questa una delle priorità rilevanti anche per quanto riguarda il reperimento delle risorse. L'attuazione è nelle nostre mani, chiave di volta per questa attuazione, al di là delle possibili semplificazioni legislative alle quali tutti quanti dobbiamo guardare con attenzione, la chiave di volta è che la cooperazione in questo tavolo funzioni. Quindi il fatto che qui il Governo attraverso i Ministeri, l'Ufficio del Commissario, il soggetto attuatore, la Regione, il Comune, anche l'autorità portuale per le sue competenze, le responsabilità amministrative e giudiziarie, Io mi auguro che le ipotesi che abbiamo per esempio di ottenere nel giro di un certo numero di mesi, addirittura entro la fine dell'anno, se possibile il dissequestro delle aree possa aiutare all'attuazione di questo lavoro, però non vi nascondo che poi tutto questo funzionerà nella misura in cui questa intesa tra le istituzioni attorno al tavolo si rivelerà efficace, duratura nell'interesse di Napoli, della Campania e del Paese. Quindi solo per ringraziarvi e per dire che il Governo continuerà come ha fatto in questi anni ad assumersi la propria responsabilità ed è molto soddisfatto della circostanza che questa responsabilità può avere un contesto di collaborazione massima tra le istituzioni nazionali e locali.